Sono tre le persone denunciate al termine di un'operazione condotta dagli agenti della polizia locale della provincia di Pordenone durante un servizio congiunto con il corpo forestale regionale finalizzato a reprimere eventuali atti di bracconaggio. I dettagli dell'operazione avvenuta in comune di Caneva nell'area di Piansalere sono stati illustrati nella sede del servizio caccia e pesca provinciale. Tra sabato notte e domenica mattina ci sono stati gli appostamenti da parte del nostro personale della forestale e alle 4.20 è partito il blitz dove i colleghi miei e nonché la forestale regionale hanno provveduto a fermare un'auto sospetta. Nel momento del fermo è stato ritrovato all'interno del veicolo una carabina di marca russa, una carabina bascolante e nove proiettili calibro 30.06 utili proprio per questo tipo di caccia. Per i tre bracconieri, tutti residenti in provincia di Treviso, è scattato il deferimento a piede libero per il reato di esercizio venatorio. Un'operazione, quella messa a segno, che va ad aggiungersi alle diverse attività svolte dal corpo di polizia locale provinciale. Oggi parliamo di un'operazione che ha consentito di deferire l'autorità giudiziaria delle persone da attività di bracconaggio. Però in generale, questo citerei a sottolinearlo, la polizia locale in stretta sinergia col corpo forestale regionale, cosa di cui andiamo assolutamente fieri, sta operando in operazioni dedicate proprio a reprimere questo tipo di attività. Per cui, anche se i nostri operatori molte volte non si vedono sul territorio, non significa che non stanno lavorando. Anzi, ci si accorge poi quando con operazioni di questo tipo i risultati vengono portati a casa. Un plauso per la conclusione dell'importante operazione è arrivato anche da Luca Bulfone, direttore generale alla Direzione Centrale delle Risorse Agricole della Regione.